Io sono particolarmente contento, proprio all'interno della seconda settimana della fiera di primavera, di essere qua questa mattina in questo parco di San Romano. È una riqualificazione, offerta totalmente dalla Donaldson di Ostiglia, un'azienda molto importante sul territorio, investe tanto, tanti lavoratori e lavoratrici del territorio lavorano qua, 300 persone, una multinazionale molto ma molto importante, ha deciso di investire dei soldi per riqualificare un parco che è vissuto da famiglie, è vissuto da bambini, è vissuto da tante persone, in un quartiere molto popolato di persone. Quindi siamo veramente contenti di avere qua i dirigenti, di avere qua soprattutto i bambini, le famiglie che possono usufruire di questo parco. Sono molto ma molto contento l'azienda Donaldson, grazie. Noi di solito come amministrazione andiamo a chiedere sponsorizzazioni, per la stagione teatrale, e qui Donaldson c'è perché ci dà il contributo, piuttosto che andiamo a chiedere sponsorizzazioni per altri eventi, ma è difficile vedere un'azienda che si propone dal nulla, cioè non abbiamo mai chiesto qualcosa, si propone per appunto dire vogliamo fare questa cosa. Con una piccola iniziativa a livello locale si può fare una piccola differenza per un piccolo gruppo di persone e se questo circolo virtuoso viene replicato più volte è la somma di tante piccole e belle iniziative che fa una grande differenza per la comunità e per il territorio. Questa mattina inauguriamo il Parco San Romano dove Donaldson Ostiglia ha realizzato un intervento di riqualificazione con l'installazione di attrezzature per i bambini, con il rinnovamento delle porte per il campo da calcetto. È un'attività di sostenibilità, di riqualificazione che quest'anno appunto riguarda lo stabilimento Donaldson Ostiglia ma che normalmente riguarda altre attività in quanto Donaldson è attiva globalmente con interventi di sostenibilità e di appunto miglioramento del tessuto sociale sul quale lavora. L'intervento è stato finanziato appunto dallo stabilimento di Ostiglia dove lavorano circa 300 dipendenti appunto per questo sono molto contento e anche onorato di presenziare oggi a questa iniziativa perché rappresenta proprio un collegamento, un avvicinamento alla realtà sociale del paese. Non è l'unico intervento che Donaldson ha fatto o farà per quanto riguarda la comunità. Il sindaco oggi ne ha appunto menzionati altri come ad esempio la sponsorizzazione della macchina utilizzata per il volontariato. Un altro intervento che vorremmo potenziare per il futuro è il collegamento con le scuole, in particolare con gli istituti tecnici, professionali e liceali che sono qui nell'area di Ostiglia.